ecco questo bellissimo cane un bracco stupendo buonissimo affettuosissimo è stato abbandonato a ginosa in provincia di taranto secondo noi a meno di due anni e probabilmente non era bravo a caccia quindi si trova per la strada anche se ha trovato rifugio qui in una proprietà di campagna ma non può rimanere per sempre non deve fare nella guardia nella caccia deve fare il cane da famiglia deve trovare una bella famiglia questo cucciolo si troverà la troverà ma anche meno di due anni anche meno di due anni questo piccolo vuole affetto ma non lo avrà finché non troverà la sua famiglia per sempre chissà qual è il tuo passato non sa parlare non lo può dire buonissimo gli dobbiamo trovare un nome a questo coccolone ciao amore e tra il te la troviamo presto una famiglia resisti 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 ciao amore